A tutti i nostri amici di Facebook e non solo, abbiamo un importante appuntamento questo ottobre 2017 per un grande viaggio in America, a New York, per un bootcamp, sarà una settimana incredibile dove potrete vivere l'esperienza da vicino di quello che noi facciamo oggi in Italia come sidewalk e come Sunday School a Metro World Child in New York. Abbiamo con noi Passo di Quilson, sono così contento per vedere alcuni di voi e che voi possiate andare a lavorare per le strade di New York e potrete vivere quello che altre persone solo possono sognare. Sarà un tempo veramente divertente. Voglio darvi il benvenuto e un personale invito per quello che farà il bootcamp ad ottobre. Rimani in contatto per avere più informazioni. e vedrete in New York. E vorrei venervi a New York. Ciao! 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 Ciao!